Poracci, mi avete stupito e non so se necessariamente in positivo. In meno di 24 ore il video di ieri è diventato uno dei più commentati del canale e lo avete letteralmente inondato di commenti epici. Bravo Paper Mario per essere stato il più veloce di tutti e complimenti al Lord che non solo ha riconosciuto il titolo ma ha anche risolto il mistero della 3D All Stars. Un commento che fa ridere ma anche riflettere. Ma banda di ciance, ora vi frego con un gioco che di sicuro non avete mai visto. Ditemi il nome, solo risposte sbagliate. Poracci, bentornati o benvenuti sul TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi anche dopo la mezzanotte. Oggi sarà una puntata ricchissima, certamente, ma non tanto quanto la live di questa sera. Quindi sì, ora parleremo delle notizie più importanti della giornata ma non dimenticatevi che seguiremo il direct in live qui su YouTube a partire dalle 23.30. Insomma, prendetevi un bel caffè e preparatevi a uno degli eventi più importanti dell'anno. Nel mentre che aspettiamo che arrivi l'ora fatale mi raccomando, come al solito supportate il canale con un piccolo gesto lasciate un like, iscrivetevi attivando la campanella delle porotifiche e diffondete così il verbo del poro. Andate, andate in pace. Non vi basta? Beh, potete sempre finanziare direttamente la realizzazione di questi video abbonandovi al Poreon, il Patreon dei Poracci. Trovate il link in descrizione. Iniziamo! Partiamo con qualche notizia al volo. È iniziata oggi alle 15 la campagna di sconti saldi blockbuster su eShop e, senza troppe sorprese, non è affatto semplice capire quali giochi siano in promozione. Sono oltre 300 i titoli in saldo. Peccato che non siano stati raccolti in un unico contenitore e che le offerte al momento si sovrappongano con campagne e sconti già in corso. Insomma, il solito caos totale sulle pagine degli eShop. La campagna durerà fino al 3 ottobre e nei prossimi giorni vi segnalerò quelle che secondo me sono le offerte più interessanti. Tenete d'occhio gli shorts. Intanto, se avete qualche suggerimento, vi aspetto nei commenti. Siamo giunti alla frontiera definitiva dello scalping. Dopo questa notizia, qualsiasi attività di bagarinaggio su console, carte da collezione, schede video, vi sembrerà roba da principianti. Sui bei sono iniziati a spuntare rivenduti a cifre folli gli Oreo Limited Edition a tema Pokémon. Dei 16 design collezionabili, il più raro sembra essere quello di Mew, che usato viene venduto anche a 25.000 dollari. Sì, insomma, chi non investirebbe 25.000 dollari su un Oreo usato? Anche Steam Deck continua a far parlare di sé. Sebbene i preorder per la console Valve non siano ancora stati aperti, alcuni sviluppatori hanno iniziato a ricevere delle unità di test per provare la console e verificare che effettivamente le loro produzioni non richiedano lavori aggiuntivi per girare sul PC portatile. I primi hands-on sono a dir poco entusiastici. Steam Deck funziona alla grande e in più, grazie ai touchpad, non fa rimpiangere assolutamente l'assenza dell'accoppiata mouse e tastiera. Gli oporacci sono sempre più convinto che, nonostante il prezzo proibitivo, la piccolina di casa Valve potrebbe diventare un vero gigante del settore delle console portatili. Che ne pensate? Ma passiamo alle notizie del giorno e voglio aprire proprio con una Poro Prediction. Torniamo infatti a parlare della Castlevania GBA Collection. Non solo possiamo affermare con certezza che esiste al 100%, ma a questo punto secondo me sarà uno dei review la sorpresa del Direct. E preparatevi perché ci sono informazioni aggiuntive che faranno la felicità sia dei fan che dei collezionisti. La scheda apparsa sul sistema di rating taiwanese, che già avevamo commentato in una delle puntate precedenti, è stata aggiornata in modo sostanzioso. Ora è disponibile la cover art che accompagnerà il titolo e inoltre una breve descrizione che conferma la presenza di ben 4 giochi, non 3. Oltre alla trilogia GBA, a sorpresa farà la sua comparsa anche Dracula X o Vampire Kiss, come conosciuto in Europa. Non è ancora certo se si tratti della versione SNES, ovvero Ronde of Blood, oppure l'originale PC Engine. La Collection avrà la funzione di rewind per rendere meno frustrante l'esperienza complessiva e anche altre aggiunte che miglioreranno la quality of life, tra le quali, presumo, ci siano anche i save state. Ma non è finita qui, perché la Collection è apparsa brevemente anche sul sito di un rivenditore asiatico, confermando in modo praticamente certo l'esistenza di una versione fisica della Collection. A questo punto direi che non si tratta più di rumor, ma solide realtà. Preparatevi a sentire parlare della Castlevania Advanced Collection nel direct di questa sera. Abbiamo visto Switch OLED in foto, poi l'abbiamo vista in video, e ora continuiamo a vederla in video. Ma questa volta non si tratta di una semplice console in esposizione. Il popolare youtuber giapponese IkakinTV ha avuto l'onore e il privilegio di essere la prima persona a mettere le mani su Switch OLED. Il content creator ha documentato il suo primo approccio con la revisione della console ibrida, filmandone in modo dettagliato l'unboxing. Ora, mettendo da parte il tono completamente fuori di testa di tutto il video, che è sostanzialmente la cosa più giapponese che vedrete in tutta la vostra vita, le immagini di Ikakin aiutano a farci un'idea ancora più chiara del salto qualitativo apportato dal nuovo schermo OLED. Lo youtuber fa una prova estensiva della console in modalità portatile, provando Smash, Minecraft, Mario Kart e Splatoon 2, e devo dire che, nonostante il filtro della telecamera non renda giustizia alle potenzialità di OLED, il passo in avanti si nota eccome, anche grazie alla riduzione delle cornici nere. Ottimo anche il kickstand, che raggiunge inclinazioni folli, e una volta aperto si può notare come sia stato cambiato anche il verso per l'inserimento delle microSD all'interno della console. Per il resto trovo la colorazione azzeccatissima, un palese rimando a Dread, e in particolare la doc ridisegnata fa la sua porca figura. Voi poracci, cosa ne pensate di questo unboxing giapponesissimo? E chiudiamo tornando a parlare di Metroid, ma non di Dread, e neanche di Metroid Prime 4, no 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 no, ma neanche della trilogy, attenzione! È il momento di tornare a speculare su Metroid Prime, e basta. Secondo Emily Rogers, giornalista insider del settore, che ogni tanto ci prende e ogni tanto no, Nintendo sarebbe a lavoro su una riedizione del titolo apparso per la prima volta su Gamecube, con l'obiettivo di portarlo su Switch nel 2022, per celebrare su console ibrida il ventesimo anniversario dalla pubblicazione del titolo. Secondo Rogers, Nintendo punterebbe a una release singola, piuttosto che alla riproposizione di tutta quanta la trilogy. Come al solito, poracci, qui si parla di rumor e nient'altro, e questa volta le indiscrezioni entrano in conflitto tra di loro. Da un lato abbiamo insider del calibro di Jeff Graub, che affermano da anni che la trilogy HD sia bella che pronta e in attesa di essere annunciata da parte di Nintendo. Dall'altra però, questa raccolta non si è vista neanche di striscio. L'affermazione di Emily Rogers potrebbe avere un fondo di verità, dopo tutto abbiamo visto come ultimamente si stia comportando l'azienda di Kyoto. Se c'è la possibilità di massimizzare i guadagni, Nintendo non si fa scrupoli a rivendere a prezzo pieno giochi singoli che solo pochi anni fa sarebbero stati inseriti all'interno di Collection. Nel caso queste speculazioni fossero vere, possiamo sperare solo in una cosa, che si tratti di una redizione fatta con i fiocchi, un po' come è accaduto per Skyward Sword, una riproposizione di un grande classico che giustifichi un eventuale prezzo pieno. Poracci, secondo voi è plausibile come scenario? E questo era tutto per oggi, ma no, 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 fermi! Questo era tutto per il video di oggi, ma la poro giornata non finisce di certo qua. Noi infatti ci rivediamo di nuovo qui su YouTube alle 23.30 per seguire assieme il direct. Mi raccomando, pisolino tra le 21 e le 22, caffè e poi in live con il poro. In ogni caso, grazie per essere arrivati fino in fondo, nerdate duro e ci vediamo dopo. Io sono il poro Hype, Michele Hype, Hype, Hype. Ehi, 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 fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi può aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Nel mentre che aspettiamo che arrivi la fatidiga o... Fatidiga? Che fatiga! La fatidiga o... Fatidiga? Ma come cazzo?